Grazie Presidente. Onorevoli colleghi. L'avete visto il campo bruciato di Moria? Una bimba in fuga ha chiesto al padre. Vero che moriremo? Cosa mai può rispondere un padre? Cosa volete che risponda un padre? Ma noi sì che dobbiamo rispondere, con durezza estrema. Lo spettacolo triste che l'Europa sta offrendo è inaccettabile. Uno spettacolo triste. Un imperativo morale politico ci obbliga a chiedere, ora e subito, l'evacuazione immediata del campo e l'accelerazione del ricollocamento dalle isole verso gli Stati membri, in particolare i minore e più vulnerabili. Bene che la Merkel si impegni ad accogliere 2.750 persone dalle isole, ma serve una modifica del sistema d'asilo. Parliamoci chiaro. Alla vigilia del patto sulla migrazione della Commissione dico ai governi, qui si gioca alla credibilità delle istituzioni. Vanno cambiate le regole, serve un meccanismo di solidarietà obbligatoria che preveda la ricollocazione automatica e sanzioni per chi non li rispetta. Non serve costruire nuovi campi, non serve. Servono riforme strutturali. Ora non è tra decenni. Grazie. Grazie.